SQ. 1, entriamo. SQ. 2 verso la sala di sorveglianza. SQ. 3, se ne trova nella madre. SQ. 3, abbiamo una buona notizia e una cattiva. La sala comandi a sud-ovest della vostra posizione, a meno di 500 metri. È lì che dovrete inserire i codici per l'autodistruzione dei missili lanciati. SQ. 3, vai alla sala di sorveglianza con gli americani. Stop, Griggs e io alla sala comandi. Ricevuto, comando. Qual è la cattiva notizia? È quella cattiva che stiamo ancora cercando di ottenere i codici. Passo. Fa un culo. Facciamo il possibile. Chiudo. Bene, muoviamoci. Capitano Price, qui 5 Delta 6. Stiamo liberando l'area est verso la sala di sorveglianza. Ricevuto, Delta 6. Siamo giusto sopra di voi nei condotti. Non sparate. Ricevuto, signora. Capitano Price, due Yankee 6 a rapporto. Abbiamo incontrato una notevole resistenza nell'ala sud. Il punto di accesso da noi utilizzato è stato bloccato. Passo. Ricevuto, Yankee 6. Raggiungete la squadra 2 e aiutateli a prendere la sala di sorveglianza. Passo. Ricevuto, signore. Ripieghiamo per raggiungere la squadra 2. Passo e chiudo. Capitano Price, stiamo per inviarvi i codici necessari per l'autodistruzione dei missili in volo. Avete nove minuti prima che i missili raggiungano la costa orientale. Passo. Ricevuto. Oh, sì, 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 sì! Grazie a tutti. 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Grazie a tutti. Squadra 2, siamo in posizione. Aprite l'ingresso alla sala comandi sull'esterno. Ricevuto, eseguiamo. Attendete, ci siamo quasi. Fatto. Collegamento stabilito. Oh, ditemi che non è vero. Gas, non riesce ad aprirla più in fretta. Negativo, signore. Ma può provare a tirare se lo fa sentire meglio. Che stronzo. Che stronzo. Ne? Che stronzo. Un'altra. Grazie a tutti. 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 Andatevele subito. Abbiamo compagnia! Rinforzi nemici in arrivo! Andatevele subito! Andatevele subito! Qui, Gas! Siamo al deposito veicoli e sotto il fuoco nemico! Dove nevano siate, ragazzi? Veniamo su in ascensore, attendete. Ciao, signore. Mi piacerebbe troppo freddarlo quel Zakae. Mettete in fila, allora. Sempre che non ci trovi prima lui. Andatevele subito. Bene, tutti a bordo. Andiamo! Avete sentito, muovetevi!